Buonasera a tutti, io sono Leila Stasi, sono la responsabile del servizio di assistenza specialistica di Promos. Promos è l'azienda speciale della Camera di Commercio di Milano che si concentra sulle attività internazionali. Siamo da 20 anni sul mercato, quindi con servizi tradizionali, quelle che possono essere missioni e fiere, ma abbiamo anche un servizio un po' particolareggiato, un servizio ritagliato sulle esigenze del cliente che si chiama servizio di assistenza specialistica. È un servizio attivo dal 98, siamo un team di 6 persone, ci appoggiamo a 11 uffici Promos all'estero e a tutta una serie di consulenti, una rete di consulenti costruita negli anni. Possono essere consulenti per servizi di ricerca partner, ricerche di mercato, ma anche consulenti come studi legali. A seconda dell'esigenza dell'azienda e della tipologia di servizio richiesto viene attivato un consulente o l'ufficio estero o un consulente privato. Abbiamo un pacchetto di servizi completo. La mia intenzione oggi è fare magari una descrizione in una decina di minuti di quelli che sono i servizi che offriamo abitualmente alle imprese, fermo restando che si può ritagliare un servizio ad hoc sulla base di quelle che sono i desiderata dell'impresa. E poi soprattutto vorremmo far parlare due imprenditori che hanno fatto servizi con noi nell'ultimo anno. In particolar modo parlerà il dottor Mauro Lozza che è direttore della sede Backers di Milano e poi Andrea Righetto, il dottor Andrea Righetto che è il direttore commerciale dell'azienda Cuciterme Bagni di Bormio, giusto. Allora in breve sui servizi. Il nostro servizio, il core business ovviamente è la ricerca di partner con l'organizzazione di B2B all'estero. È un servizio che viene ovviamente modulato secondo i desiderata. Viene fatta una mappatura di quelli che sono le controparti o commerciali o agenti sull'estero. Viene comunque sensibilizzata la controparte straniera con invio di materiale promozionale delle aziende. Vengono organizzati incontri B2B in loco. È tutto creato in funzione di date suggerite dal cliente. Quindi non è la missione preorganizzata per gruppo di aziende ma è un'agenda personalizzata per la singola impresa. A parte le ricerche di mercato, facciamo abitualmente ricerche di mercato con analisi dei trend di settore, quindi dall'analisi della domanda, dell'offerta, profilazioni di distributori, showroom, l'analisi della presenza italiana nel settore di riferimento fino all'identificazione di strategie di entrata in un mercato particolare. Il contenuto può essere studiato ad hoc e possiamo fare da una ricerca molto light a una vera e propria ricerca di mercato molto approfondita. Sempre a livello di ricerche partner, un servizio che ci viene chiesto soprattutto da grossi gruppi è lo scouting di fornitore con la mappatura dei potenziali fornitori, delle fonti di approvvigionamento anche in tutto il mondo e l'avvio di contatti per la richiesta di dati tecnici come quelli che possono essere disegni tecnici, compilazione di sheet informative per profilare i fornitori. Oltre agli scouting, le ricerche di mercato e ricerche partner, un servizio interessante soprattutto per le piccole imprese può essere il back office commerciale estero. È un supporto professionale di un madrelingua in loco per la gestione, lo sviluppo di una serie di rapporti avviati in precedenza tramite ricerca partner piuttosto che fiere all'estero e quindi è una risorsa dedicata che gestisce poi i rapporti day by day nella lingua locale. Altri servizi, una seconda tipologia di servizi sono i servizi legati all'avvio di una presenza diretta all'estero. È un servizio che può andare da un'analisi di quelle che possono essere le diverse location per un possibile investimento di tipo commerciale o produttivo all'assistenza per la costituzione di una società all'estero, la ricerca di immobili, la ricerca di personale. In questo caso poi sentiremo il caso aziendale dell'azienda Bakers perché si è proprio trattato di questo tipo di servizio. Sempre sul filone della presenza diretta all'estero una nuova modalità che abbiamo sperimentato e che ha avuto successo in particolar modo su Cina e Brasile è l'incubatore di impresa che permette l'avvio di un punto operativo all'estero per dare delle risposte immediate al mercato, quindi avviare delle analisi di marketing, cioè un tipo di attività di marketing sul mercato con una persona dedicata 100% per un anno o due anni all'azienda. È una persona che viene assunta direttamente da Promos, è ospitata presso i nostri uffici di Shanghai o di San Paolo e con l'azienda italiana noi facciamo un contratto Italia su Italia per cui non c'è bisogno di una registrazione all'estero della società, la persona viene assunta da noi ed è di personale Promos, viene scelta comunque alla fine di un processo di selezione di ricerca di personale, viene scelta comunque dall'azienda italiana. Quindi vi faccio vedere i due casi della Cina e del Brasile, oltre a questi due paesi abbiamo fatto comunque servizi similari di incubatori anche in Germania per gruppi di aziende della sub fornitura meccanica individuando un tipo di interlocutore che può essere un agente, oltre a questo abbiamo fatto per il settore legno arredo, per un gruppo di aziende abbiamo fatto un incubatore d'impresa in Qatar, quindi si possono anche studiare delle tipologie un po' differenti dall'assunzione diretta della risorsa. Un altro progetto che seguiamo abitualmente ogni anno negli ultimi tre anni si chiama Progetto GAP, cioè Global Access Program. È un progetto di business planning internazionale, quindi è per un accesso strutturato al mercato nordamericano. Lo seguiamo in coordinamento con la Camera di Torino e viene proposta all'azienda Lombard grazie a Promos. Viene fatto e seguito direttamente dall'Università di Los Angeles, quindi da UCLA, e alla fine di un progetto di sei mesi, seguito da team di cinque executive MBA, viene sviluppato un business plan con una parte di ricerca di mercato, ricerche di marketing, soprattutto su fonti primarie, quindi interviste di mercato a oltre 100 operatori del settore. Un'analisi dell'organizzazione interna, strategie aziendali o anche con visite in Italia da parte del team MBA e un'analisi finanziaria degli investimenti. È un progetto che si sviluppa in sei mesi, da giugno a dicembre di ogni anno. Quest'anno, ogni anno poi si termina la settimana di Sant'Ambrogio. Viene poi presentato il business plan di fronte a un panel di specialisti di mercato, venture capitalist e professori di UCLA. Un servizio che stiamo introducendo di recente, cioè nell'ultimo anno l'abbiamo introdotto, assistendo a un sempre maggior numero di aziende di piccola dimensione, che sono aziende matricole nei processi di internazionalizzazione e non sono mai andati all'estero. Ci siamo accorti che ci chiedono ricerche partner, ma in realtà hanno bisogno di una parte pregressa di assistenza e di tutoring in azienda. Per cui il nuovo filone è quello proprio di effettuare check-up operativi in azienda e poi sulla base di quelle che sono le esigenze dell'azienda individuale svilupparlo sull'analisi della solidità finanziaria dell'azienda, l'analisi dell'organizzazione dei processi interni, una parte di marketing e comunicazione, perché diverse aziende hanno anche semplicemente dei problemi di siti inter, cioè non hanno neanche un sito internet in inglese per andare all'estero. Poi un supporto diretto nostro in azienda per l'identificazione di opportunità sui mercati esteri. Tra i diversi servizi, tra l'altro legato alla presenza diretta all'estero, comunque c'è anche un supporto di tipo legale di studi internazionali con cui siamo convenzionati, sia per la registrazione di società ma anche per la contrattolistica internazionale. Gran parte dei servizi sono finanziabili attraverso il voucher A, il bando regione e camere di commercio lombarde. Un altro filone di servizi sono i servizi per la finanza che svilupperemo a partire dal 2014, poi la mia collega Luciana Chiaravalli, se volete delle maggiori informazioni poi potrete fare un approfondimento diretto con lei. Sono tutti quei filoni di servizi che consentono l'agevolazione e l'accesso al credito per le piccole e medie imprese lombarde. Quindi interventi di consulenza strategica e finanziaria per definire i piani finanziari, un supporto minato per l'accesso ai finanziamenti tradizionali e la selezione di strumenti di copertura più idonei per coprire il rischio di credito. Poi magari quando farà lei l'intervento vi potrà dare maggiori informazioni. Per quanto riguarda invece i mercati obiettivo noi operiamo su un numero di mercati annualmente che si aggirano tra i 30 e i 40 paesi. Negli ultimi mesi questi sono i paesi su cui abbiamo lavorato. Possiamo andare da servizi in Azerbaijan, Georgia a servizi in Africa piuttosto che i classici paesi dove noi abbiamo gli uffici. I più forti sono Mosca, San Paolo e Shanghai ma è molto forte e lavora benissimo l'ufficio di Casablanca e lavoriamo con consulenti in diversi paesi esteri. Poi vedremo il caso della Polonia fatto di recente con il dottor Righetto. Io direi adesso di approfondire con un caso aziendale la tematica dei servizi quelli per la presenza diretta all'estero, quindi servizi più articolati di secondo livello. In questo caso parleremo con un caso aziendale specifico della Turchia. lascio la parola alla mia collega Luciana Chiaravalli che vi introduce un po' quello che è il lavoro che è stato fatto in un botta e risposta poi con il responsabile che ha seguito il servizio. Buonasera a tutti, adesso poi cederò la parola direttamente al direttore della sede italiana di Becker's, il dottor Lozza, in modo che possa entrare più nel dettaglio del servizio. In pratica Becker's Italia si è rivolta a noi lo scorso maggio per chiederci un supporto dato che avevano l'intenzione di aprire una sede in Turchia che avesse dapprima una valenza di natura commerciale ma fosse già propedeutica poi ad avere anche una parte produttiva in modo che serviranno meglio i clienti che già l'azienda ha. L'azienda si occupa di verniciatura industriale con particolare riferimento poi al coil coating, comunque poi il dottor Lozza entrerà nel dettaglio della loro attività e quindi il nostro supporto è stato quello innanzitutto di andare a identificare la zona migliore per questo investimento e una volta trovata la location più adatta le loro esigenze, andare sulla base delle caratteristiche tecniche che ci hanno fornito ad identificare quello che poteva essere proprio il capannone, quindi la struttura fisica dove poi andare a impiantare la propria sede in Turchia in modo poi da sviluppare al meglio questo mercato. Quindi cedo la parola al dottor Lozza che ringrazio per la sua presenza. Buonasera a tutti, io sono Mauro Lozza, sono amministratore delegato della Becker's Italia. La Becker's è un'impresa privata svedese che produce vernici industriali, ha 3.000 dipendenti, 19 siti nel mondo, un fatturato attorno ai 700 milioni di euro. Siamo divisi come tutte le imprese internazionali in aree geografiche, l'Italia è responsabile del bacino del Mediterraneo, inclusa Turchia. Noi avevamo questo progetto ambizioso di insediarci in Turchia perché riteniamo essere l'unico paese attorno ai paesi classici europei in crescita, per cui abbiamo attivato un po' tutte le risorse per far partire questo progetto, ma ci siamo resi conto che serviva un aggancio veramente locale. Io avevo già avuto una precedente esperienza con Promos per quanto riguardava il Brasile, per cui mi sono rivolto a loro spiegando quello che era la nostra necessità e il nostro target. Il nostro punto di partenza è stata la localizzazione dei clienti, cioè posto che il nostro obiettivo era di arrivare nel giro di un anno a costituire una filiale turca e completamente autonoma, quindi una sede produttiva, bisognava capire quali erano le regole del gioco, soprattutto quali erano i punti forti su cui basare la scelta della localizzazione e siamo partiti dalla localizzazione dei clienti perché riteniamo che nel nostro lavoro il servizio logistico soprattutto sia una variabile importante. Quindi un aspetto fondamentale è che noi abbiamo fornito a Promos quelle che erano secondo noi le variabili più importanti e attorno a queste abbiamo costruito il nostro progetto. diciamo che l'approccio è di 10 mesi fa, 9-10 mesi fa, forse anche meno, quindi tutto si è svolto molto rapidamente. Quindi una volta definito il target globale e una volta definito gli step intermedi abbiamo dato a Promos quella che era secondo noi l'area, la mappatura dei nostri clienti e dove volevamo insiediarci. Con l'aiuto di Promos abbiamo sondato tutte le varie aree sia in termini di attrattività di investimento sia in termini di vicinanza dei clienti e alla fine con loro siamo riusciti a identificare quella che sarebbe stata la regione, in particolare di Lovasi, la regione che più poteva rispondere alle nostre esigenze. Fatto questo, un altro passo importante è stato quello attraverso il network e la filiale loro in Brasile, quello di entrare in contatto con le agenzie immobiliari perché il passo successivo era quello di identificare la realtà dove insediarsi ed è stata un'impresa forse la più difficile che abbiamo affrontato fino ad ora per motivi svariati. Un primo motivo è che la Turchia non è un paese facilmente comprensibile perché hanno le loro regole del gioco. Il secondo motivo è stato quello di intervenire, far sposare il nostro processo decisionale e quindi autorizzativo all'interno del nostro gruppo con la rapidità turca. Per dirvela in parole provere, identificavamo un capannone che poteva essere meritevole di approfondimenti, se tardavamo come abbiamo tardato una settimana a dare risposta, il capannone non c'era più, proprio perché c'è un'attività di investimento in Turchia molto frenetica e l'attività è molto rapida. Nonostante questo abbiamo visto svariati i capannoni, abbiamo spiegato alle realtà immobiliari che abbiamo incontrato le nostre necessità impiantistiche, le nostre necessità anche di tipologia di costruzione di capannone. Voi potete immaginare, non essendo un'azienda piccola ed essendo di proprietà svedese, ci sono tutta una serie di parametri da rispettare, tutta una serie di accortezze da tenere nelle scelte decisionali che vincolano molto. Nonostante questo, con il loro supporto e soprattutto con la filiale turca e le persone locali che abbiamo incontrato che collaborano con loro normalmente, siamo riusciti ad identificare quello che è il capannone che fa le nostre esigenze. E siamo ora nella fase di negoziazione. Abbiamo scelto non di investire costruendo noi o di acquistare, abbiamo scelto di affittare. Comunque si parla di una realtà abbastanza importante. Fatto questo, che è il primo step che si sta concludendo, siamo partiti con la ricerca del management locale. Anche qui abbiamo individuato tramite loro, anzi oserei dire che c'è stato un passo precedente. Il passo precedente è stato la scelta dello studio legale per poterci supportare sia nel contratto di affitto del capannone sia nella costituzione della Becker's Turchia, perché ad oggi non esiste ancora. Un terzo passo è stato quello di scegliere un commercialista che anche lui potesse seguirci nella costituzione dell'impresa. Quarto passo, quello su cui stiamo lavorando adesso, è l'identificazione della società di ricerca del personale che possa assisterci nella scelta di quello che sarà il direttore generale locale. Noi lo chiediamo con certe caratteristiche, certe esperienze. Anche in questo caso da promo si è arrivata l'indicazione. Chiaramente non ne indicano uno solo. Credo che è giusto dal loro punto di vista offrire una rosa, ma avere questi contatti e poter interlocuire con loro e comunque capire quale entità può supportare nella scelta finale è molto importante. Tutto questo si è svolto, io dico dieci mesi, ma forse meno. Quindi devo dire che la rispondenza da parte loro è stata veramente pronta, veramente immediata. Se posso aggiungere solo una cosa, per questo servizio è stato molto importante il rapporto tra noi qui a Milano, che abbiamo coordinato il tutto, la nostra sede a Istanbul, perché appunto noi abbiamo, come diceva la mia collega, una rete di uffici all'estero e quindi è stato importante, perché loro poi hanno coinvolto tutta una serie di partner locali, quindi dall'agenzia immobiliare, gli studi legali, il commercialista, adesso gli edunter, in modo che lavorando tutti insieme abbiamo fatto un networking tale, per cui partendo da maggio con l'attività, siamo già arrivati oggi a selezionare quello che può essere il capannone adatto e permettere a backers di iniziare a muoversi effettivamente per costituire la società in Turchia. Quindi è stato proprio importante questo lavoro di team che ci ha permesso di dare una risposta in tempi rapidi alle necessità dell'azienda. Invece il secondo caso aziendale è un caso focalizzato sulle ricerche partner, che è il servizio al momento più richiesto dalle imprese. Per la ricerca partner, come caso aziendale vi presento il dottor Andrea Righetto, che è il direttore commerciale di Cuciterme e Bagni di Bormio. Voi conoscerete le terme di Milano, le terme di Bormio, loro tra l'altro gestiscono anche le terme di San Didier, giusto? Di San Didier e di Torino. Allora, con loro siamo entrati in contatto, in realtà nel 2012. Il dottor Righetto è responsabile di Bagni di Bormio dall'ottobre del 2012. Noi in precedenza abbiamo lavorato con un'altra persona, general manager degli alberghi di Bormio. Infatti abbiamo lavorato sul mercato russo strutturando una ricerca sul settore dei tour operator, mentre quest'anno, visto che comunque c'è sempre una crescita maggiore di turismo anche da parte dei polacchi, abbiamo concentrato la ricerca sulla Polonia. Però lui vi parlerà meglio, cioè approfondirà meglio quali sono state le ragioni per richiedere un servizio di questo tipo e quali sono state poi le caratteristiche, le peculiarità della risposta del servizio, come l'abbiamo strutturato e quali sono stati i punti di forza del servizio. Prego. Buonasera a tutti, sono Andrea Righetto e sono appunto il direttore commerciale di Cuciterme Bagni di Bormio. Molto brevemente, Cuciterme è un gruppo, uno dei più grossi gruppi termali in Italia. Facciamo un fatturato di circa 30 milioni di euro, abbiamo 500.000 ingressi annui nelle varie strutture che sono, come diceva appunto la dottoressa Stasi, Bormio con due alberghi e due centri termali, abbiamo le Cuciterme Milano, che sono delle terme, sono un centro benessere, Torino e Pressandidiè. Io mi occupo appunto in specifico di Bormio. La richiesta che abbiamo fatto a Promos è venuta già nel 2012 ed era di una valenza assolutamente commerciale, la ricerca di partner russi. Russi è in un determinato mercato, che è il segmento del turismo di lusso. A Bormio abbiamo degli alberghi 5 stelle, per cui la collocazione nostra è il turismo di lusso. Nel 2013 invece abbiamo fatto un'altra ricerca partner con Promos, che è stata dedicata alla Polonia. Quindi due cose completamente diverse. Perché completamente diverse? Perché nel caso della Russia era a ricerca di interlocutori che fossero degli intermediari turistici, tour operator, agenzie, eccetera, in un determinato segmento. In Polonia invece abbiamo cercato di analizzare e di ricercare il turismo corporate, cioè l'agenzia o l'intermediario o l'azienda che viene in Italia per fare un meeting, un incentive, eccetera. Noi eravamo completamente digiuni per quanto riguarda la Polonia, come dire, di conoscenza di questo mercato. Torno indietro. Per quanto riguarda invece la Russia, l'intervento è stato fatto per incrementare target audience. Perché? Perché già a Bormio abbiamo circa il 22%, anzi, avevamo il 20% di clientela sull'inverno che proviene dalla Russia, che proveniva dalla Russia. Con l'intervento che abbiamo fatto nel 2012 e anche quest'anno, 2013, perché poi c'è stata una fiera che abbiamo fatto a dicembre del 2012, a dire la verità. Il risultato è questo che il, diciamo, la montare dei clienti russi, già in prospettiva di quest'inverno 2013-2014, è aumentato fino al 22%, ma in termini di fatturato presenterà circa un 30% del fatturato inverno 2013-2014. Quindi un incremento veramente sostanziale. Polonia. La Polonia invece era assolutamente da scoprire. L'abbiamo fatto perché? Perché avevamo individuato anche insieme con Promos alcuni mercati che erano l'Ucraino e il Polacco. Il Polacco, dietro la scorta anche di alcuni incentive che erano arrivati francamente molto spot in albergo, abbiamo detto bene, andiamo a capire meglio questo mercato. Con cosa? Con l'individuazione appunto degli intermediari, perché in questo momento qui pensiamo che l'intermediario sia ancora parte importante del, diciamo, di quello che è il cliente. E come si è svolto? Allora, come si è svolto? Innanzitutto c'è stata tutta una ricerca da parte di Promos in loco, tra le altre cose, con una collega, Evelina. Sì, sì, Evelina, che lavora direttamente in Polonia e che ha fatto una mappatura del mercato identificando oltre 80... 80 tratture operator e aziende. Sì, operator e aziende. Quindi il settore più operator e mais. Esattamente, esattamente. Quindi una prima mappatura, una scrematura... Una verifica scrematura con lui direttamente, quindi c'è comunque un feedback da parte dell'azienda su quelli che sono i contatti identificati, prima di avviare poi il contatto diretto con le aziende. Sì, poi scrematura anche per geografica, perché in Polonia, diciamo, ci sono 3-4 centri, chiaramente a Varsavia e gli altri centri, come Cracovia piuttosto che Poznan, sono più piccoli, anche se c'è sempre qualcosa da scoprire anche in questi centri più piccoli. Anzi, a dire la verità, il feedback che abbiamo avuto è stato molto buono, chiaramente, a Varsavia, ma anche a Poznan. È stata una cosa molto interessante, ma proprio dietro una scrematura che con Evelina abbiamo fatto insieme, quindi, matchando un po' è qualcosa che già conoscevamo, noi, con quello che è stato lo studio e l'integrazione di parte di Evelina. Vi ho già detto del follow-up rispetto alla Russia, perché in questo momento, appunto, c'è stato già un incremento. La Polonia l'abbiamo fatto il 13 ottobre 2013, molto presto per dire è andato bene, è andato male. Già qualcosa in termini di incremento di domande da parte di questi operatori di alcune aziende polacche c'è stato, quindi questo fa ben presagire per il futuro. Tra l'altro, una cosa interessante, noi comunque sulla base poi della disponibilità anche degli interlocutori polacchi avevamo anche cambiato date, per cui siamo anche flessibili, molto flessibili sulle date e poi sull'organizzazione poi logistica dell'intervento. Avevamo cambiato le date, cioè le location in Polonia anche sulla base delle disponibilità, ma nel giro di due o tre giorni. Sì, infatti, la problematica era anche appunto geografica. In cinque giorni di lavoro siamo passate, ne abbiamo trascorsi tre a Varsavia, uno a Ucce e un altro a Poznan. Poi in corso d'opera ci siamo spostati proprio su Poznan, vedendo con Evelina la quantità di clienti che erano interessati. Evelina ha fatto anche un lavoro, quindi Promos ha fatto un lavoro di selezione di questi clienti, quindi proprio nei giorni in cui eravamo lì, sentendo questi tour operator, queste aziende, abbiamo cambiato un pochettino la massima flessibilità. Quindi in generale, come vi dicevo, noi siamo aperti a capire quelli che sono i desiderati dell'impresa, le esigenze poi particolari che possono nascere nei diversi mercati. Lavoriamo con una rete commerciale che trovate, i colleghi li trovate nel booth all'uscita sinistra, che possono, che sono interessati a sentire, cioè comunque a incontrarvi e capire esattamente quali possono essere le esigenze di servizio. Se volete fare domande, noi siamo disponibili a capire, a approfondire anche al termine dell'incontro. Ok? Vedete domande? Qualcuno ha domande? Particola di servizi o approfondimenti sui servizi? Grazie a tutti dell'intervento e ci sentiremo presto, spero.